Ah, ma... Ah, ma... Super! Vediamo, 30 secondi... Aspettiamo lui, però... Beh! Non ci credo, 30 secondi... Beh, gra... Ma 29 minuti, abbiate che lasso qua, gra... Ha spaccato il culo! Di Rolex! Vediamo, vediamo, è finito il disco... Wow! Tra l'altro, questo è uno dei pochi casi in cui c'è il sax alla fine della canzone, ma DJ Hardin, per rispetto, non tira fuori il suo. Per rispetto dei confronti di Luride, di un grande classico... Per rispetto dei musicisti che abbiamo in studio... Infatti! Manuel Agnelli, Rodrigo D'Erasmo, benvenuti, benvenuti! Ciao, grazie! Al pelissimo, Manuel! Stavo facendo prima una classifica delle interviste iniziate più al pelo della storia di Tropical Pizza e finora il record è di Ben Harper, che... Arriva, non arriva, arriva, non arriva... Era già così, no? Io stavo parlando e poi adesso, insomma, così... E dopo 3-4 minuti è entrato il buon Ben! Però, oh, da Biategrasso, Milano... Quanto ci hai messo? 29 minuti! Che è un ottimo tempo! Sì! Un ottimo tempo! Adesso la patente, chiaramente, me la ritireranno, ma... Era l'ultima guidata per un po'! Esatto! Me la sono goduta! Te la sei goduta! Beh, siete freschi di serata perché, insomma, state suonando in giro, state portando in giro questo spettacolo da un po' di tempo, ma anche ieri sera avete suonato! Com'era ieri? Bello, molto bello! Siamo stati a Como, un teatro sociale bellissimo, veramente uno spettacolo e devo dire che la cosa più divertente è la partecipazione del pubblico! Certo! Che è una grande novità perché in un concerto, in un grosso festival, il pubblico è proprio un'entità, sembra un animale... Certo! Mentre lì li vedi tutti negli occhi! No, e poi diciamo, almeno, i concerti degli After Hours che ho visto io, non c'è un grande... cioè, vai come un treno, no? Quindi non c'è neanche il tempo di interagire più che altro! Sì, perché è un po' un viaggio il concerto degli After Hours! Giusto, giusto! Cioè, la suoniamo fra di noi, quando l'energia funziona, questa roba qua arriva anche fuori, no? La percepisci, certo! E però è una cosa veramente molto introspettiva, mentre invece in teatro è esattamente il contrario, parlo proprio con la gente! Certo! E' una cosa che ho scoperto anch'io, che non sapevo di poter fare, diciamo, l'ho scoperto proprio adesso! Ma Bruce Springsteen stava già facendo quella cosa lì a Broadway? Allora, sì, nel senso che... adesso lo stai chiedendo di chi è lì? No, per curiosità! Perché diciamo, secondo me, nell'immaginario collettivo questo tipo di spettacolo, in questo periodo è rappresentato dal boss che decide di andare praticamente nudo e crudo, no? In uno spettacolo dove le chiacchiere quasi contano come la musica, nel suo caso per alcuni ancora meglio della musica, perché delle storie da raccontare incredibili, no? Beh, le chiacchiere contano, contano tanto perché servono a raccontare un percorso, ma anche a raccontare una certa visione del mondo, delle cose, e poi perché cerchiamo di fare una cosa anche semiseria, cioè il gioco bello è alternare le cose emozionanti, speriamo anche commoventi in alcuni punti, ha delle cose che fanno veramente ridere, no? E' certo! Quello è il gioco bello! Allora, approfondiamo tra poco, an evening, with Manuel Agnelli, c'è Manuel e Rodrigo con noi, Tropical Pizza, ci sentiamo dopo questo spot, ma la diretta YouTube è già iniziata, anzi, vi avviso in diretta, ogni cosa che diciamo da adesso in poi rimane, diciamo, sul web, giusto? Vai! A fra poco, ciao! Anche a volte ci dimentichiamo di avvisare, finisce che sai, tipo qua, ah no, ma poi lascia stare una merda e rimane! Come va, Nichi? Ma senti dai, non male! Non sei sempre di inviafumagalli? Non male, magari! Ma come magari? Invivibile quella zona di traccia! C'è l'ordita sotto casa, fino alle 5 di mattina, tutte le sere avresti unzunza! Ma dici che così fino alle 5? Perché io, il periodo lì, quello stesso tuo, tu sei arrivato un po' dopo, c'era il Devil Bar! Quello veramente prisse una serazionata! Ma brutta gente! E poi io all'inizio ero al primo piano facciato di là, e lì era infernale! Però poi ero un secondo, ti dirò che io ogni volta che passo davanti a quel palazzo, io lo vedo come non si riconquisterò! Sì, c'è! Poi adesso l'antinte è già, sono in zona piazzale a curse, dove c'è, dove fanno la nuova ambasciata dell'America! Sono ripresente, no? Eh, ma perché è una zona uncool, diciamo, dove c'è quello locale che hanno fatto l'apo e crack! E' una zona dove, sai cosa c'è adesso? Quel locale lì? C'è il Masada! Ah, sì, come no! In questo locale qui, tu vedi la presentazione, loro fanno yoga, robe per bambini, anziani, poi hanno lanciato questa elettronica di pomeriggio! Ma se tu leggi la via scheda e dici, ma che bella questa roba, no? Che quando si sveglia il sabato va! Però poi in realtà ci va la gente alla fine di tutta la serata del merito! Infatti io... Ah sì, eh? Eh sì, un sabato tipo alle mezzogiorno, cioè vado a fare la spesa di così, vedo fuori sei nella via! Eh, è una situazione tipo di after! Infatti, e poi è un club, devi fare... Infatti non sono mai riuscito ad entrare, però il locale è molto bello, un po' berlinese... Bello! Ex copisteria, sai proprio quelle robe che vedi a Berlino? Sì, sì! Quella zona lì è... No, magari non proprio lì! Però i Navigli noi li abbiamo vissuti, non dico da ragazzi, però da giovani! Certo, certo! Madonna! Lì era figo! A quest'età qua, io poi adesso con la bimba... No, chiaro! No, forse non è tanto da family diciamo, però io sai sono ancora... La vivo ancora un po' in quella maniera, cioè... Perché tra la pollo, saniteria, manzini, i baretti, i ristoranti... Non lo so, io mi sento legato a quella zona, non riesco a stare... Ma io sono nato lì, in realtà era piccolo... Sì, eh? Proprio sulla Ripa, sì! Ma veramente? L'ultimo palazzo, l'ultimo numero di Ripa di Porta di Cinesi è prima di loro di Colmoro! Quindi praticamente cos'è? Dove c'era il Toilet? No, il Toilet è ancora più in là! No, un po' più in giù... Aspetta, Ripa è ancora dove c'è Lombardini, giusto? È ancora Ripa! E penso di sì! Jungle Sound, diciamo! Prima del Jungle! Prima del Jungle! Eh, per dire, anche le sale pro... Massi... Sei sempre Rocket... Io abito lì, ho preso casa lì vicino... E alla fine è la zona... Il nostro Greenwich Village è quello lì! Cioè, poi magari che ci sia Porta Venezia, che è una figata... Che è un po' Chelsea, non lo so... Però... Non lo so, vedo la mia tipologia di posto, mi porta sempre da quella parte lì... E sono a... Sei, sette chilometri... Ma Gelo, non sei venuto lì? No... Cacchio, sono venuto! Sono venuto ma non c'eri! Cos'è che c'era quando sono venuto io? Beh, nelle inaugurazioni non sono riuscito a entrare... Cioè, ero lì ma fuori! Sono andato da Zio Pesce, non si riusciva... Ah, certo! La sera che c'era Xavi, che ha fatto quella cosa che sta facendo adesso super sperimentale... Sono venuto a vedere anche sai chi? All'Osi... Ah sì! Che c'era Davide che presentava... Ma è carino... Madonna... Madonna... No, ma poi la posizione... È figa, vero? L'unica roba è che non si riesce a parlare fuori perché appena fai... No, poi ti stavo dicendo... Cioè, comunque un po'... È residenziale! È molto! Si chiama Blinding Lights, la nuova di The Weeknd... Dico sempre ma con una connotazione positiva, no? Cioè, non voglio denigrare The Weeknd... Sembra una canzone dell'87... Io in realtà lo dico come... Come complimento... Oh, che figo! Cioè, sembra una bella canzone dell'87... E credo più o meno in quegli anni iniziavano... Iniziava un po' la storia degli After Hours... È il primo 45 giri dell'87... Vero, no? Sì, diciamo che... Parliamo di altri anni Ottanta... Un po' più... Un po' più... Il lato rocking degli anni Ottanta... Quali erano le band... Cioè, avevi già scoperto, diciamo, che ne so... Il Velvet Underground a quello... Sì, da un pezzo... Il Velvet Underground... Dall'inizio degli anni Ottanta... Era quando erano superiori... Ok... Alla fine degli anni Ottanta... Metà fine degli anni Ottanta... I Pixies erano il mio gruppo preferito... Ok... E poi c'erano anche due altri gruppi americani... Husker Du che facevano questo hardcore melodico... Certo... E i Replacements... Certo... Beh, quindi... Roba alta, diciamo... Considerata ancora adesso da autore... Se vogliamo... Sì, i Pixies sono quelli che hanno influenzato il Nirvana... Cioè, i Pixies erano i Nirvana brutti e grassi... Certo... Per cui... Beh, allora... Pixies, per esempio... La canzone principale... Lo dico per chi... Magari non bazzica tanto questo mondo... La canzone principale è della crona sonora di Fight Club... Esatto... No? Husker Du, il gruppo che hai citato... A questo cantante leggendario... Ovviamente per chi segue un certo tipo di musica... Ma tra chi segue un certo tipo di musica... C'è sicuramente Dave Grohl... Dei Foo Fighters... Che infatti ha invitato... Ha questa tendenza a invitare i propri eroi... No? Nei suoi dischi... E c'è quel momento molto commovente... In cui... Non so se hai visto nel loro documentario... Dice... Senti... Ma lui gli fa... Il cantante di cui mi spugge il nome... Il cantante di Asker Du gli fa... Forse era Grant Hart... Che era anche il batterista... Credo di sì... Che adesso è un signore... Insomma... Ha un umore molto gentile... E dice... Senti Dave... Ma mi passi il testo della canzone? E fa... No, non l'ho ancora scritto... Perché lo voglio scrivere con te... E quindi si mettono insieme... E fanno così... Ampress, ampress... Ma hai avuto qualche... Il cosiddetto... Guilty pleasure... Cioè qualche gruppo... Agni 80... Che magari non fa... Figo ricordare... Ma che in realtà ti è piaciuto tanto... No... No eh... No... Rodrigo cosa facevi? Beh insomma... Tu sei di Malta Generazione... Io ero un po' piccolino... Ero un erdoccio... Che studiava al conservatorio... Infatti... In realtà io ero proprio fuori da qualunque tipo di giro musica... Guarda l'unica cosa che conoscevo che non fosse musica classica e musica brasiliana... Perché sono per metà brasiliano... Quindi sono cresciuto con quei dischi... Eh certo... Di mio papà... L'unica cosa che avevo già ascoltato... E credo di non dire una banalità come per molti... Erano i Beatles... Ma tra l'altro una cassettina di mio papà... Ok... Che era una sorta di greatest hits... Neanche ufficiale... Vabbè comunque... Ma non si sbaglia mai... E anche con quelle... L'unica che veramente... Aveva un link evidente... Con tutto quello che ascoltavo... Era The Long and Winding Road... Che era il pezzo... Orchestra... Di mio papà... Mamma mia... Bellissimo... Che adesso suoniamo in tour... Ah sì... Un cerchio che si chiude... Ma c'è stato un innamoramento... Non so... Per esempio io... Mio fratello Chris... Nasce come... Sai faceva i concorsi... Le scuole medie di Flauto Traverso... Vinceva... Mozart... Partiti... Musica Classica... Poi a un certo punto... Frugando nei miei dischi... Ha trovato il disco dei Guns... Ha visto un video di Slash... E basta... Cappelli... Ciao Flauto Traverso... C'è stato quel momento lì... Anche per te... Sono arrivati... Come spesso capita a molti musicisti classici... Perché anche lì c'è un nesso... Sono arrivati Metallica... Eh... Perché spesso noi metallari... Eh beh ma è così... È vero... C'è livello di scrittura... È vero... È Bach... Praticamente... Cioè non c'è molto niente di... In qualche caso... In alcuni dei casi... Ci sono tutte le cose più melodiche... Non vanno in quella... E c'era qualche tuo professore... Professoroni... Si dice tanto ultimamente... Che si diceva... Ma cosa ascolti questa roba... Questa è la musica... Questo ti porta su una strada sbagliata... Non mollare mi raccomando... Ma tu non hai mollato la parte... No anzi... Per fortuna il mio maestro... Buonanima ucraino... Era abbastanza... Era pazzo... Come un cavallo... Era un illuminato per tanti versi... E ha appoggiato moltissimo i miei gusti... Extra classici... Perché diceva... Guarda che se quelle là... Sono i tuoi desideri... Probabilmente in quel tipo di contaminazione... Troverai la tua strada... E troverai il tuo essere... Unico e speciale... Giusto... E alla fine ci aveva visto lungo... Oh e poi anche i metalli... Che hanno fatto il disco con l'orchestra... Come vuole la tradizione... Di un certo hard rock... I Deep Purple... I Le Zep... Tutte le grandi band... Hanno avuto degli strumenti classici... E in alcuni di questi pezzi... Che riproponete in questo spettacolo... In Evening with Manuel Agnelli... Ci sono delle aggiunte diciamo... Sono un po' stravolti i pezzi... Sono stravolti... Sono riarrangiati in maniera molto minimalista... Perché siamo... Anche se ci siamo portati sul palco... Un negozio di musica... Certo... Perché arreda poi anche... Sono belli gli strumenti... Hai ragione... Soprattutto quelli vintage... Le vecchie chitarre... Le vecchie amplificatorie... Sono proprio dei pezzi da vedere... Sì... Poi siamo anche in un'era in cui... Non so... Fumi e raggi laser... Diceva una canzone di... Di Battiato... A volte si tende un po' a stupire... Con effetti speciali... Quando invece... Tac... Boh... Bella Gibson del 62... Non lo so adesso cosa... Eh sì... Io... Del 61... 61... Era andato vicino... Era andato vicino... Senti... Sentiamo una canzone dal disco... Che esce anche in vinile... Che racchiude alcune delle canzoni... Che state suonando in questo periodo... Da cosa partiamo? Da quella degli after... O da quella... O dalla cover di... Quello che volete... Come volete? Partiamo da mare di miele... Direi... Guardiamo una mare di miele... Vieni... Ah... Ah... Oh a me i dischi live... Ma è sempre gasato ragazzi... Radio DJ... Tropical Pizza... Cioè non tutti ma tanti... Il primo sicuramente... Made in Japan... Sì... Che non è made in... Ah sì sì... Io ho scoperto prima... Quello che era un saumini LP... Beh cazzo... Made in Japan di di parpolar... Che pazzesco... Sì sì... Ho visto ultimamente il film... Dicono che quello è molto rimaneggiato... Quale? Il film di live di Made in Japan... Ah che è ritoccato? Che il live era ritoccato... Ah sì eh... Il live era un po' risuonato in studio... Io infatti... Qualcosa ci sta eh... Guardando il film guardavo il sincro fra le mani... Però è analogico... E quindi ci può stare invece che... Ah... Il sincro qui e là non sia perfetto... Certo... Che ho detto che l'abbiamo risuonato... Comunque è un live della madonna... Beh allora quelli dei Kiss... Cioè di sicuro che era ritoccato il pubblico... Il pubblico... C'è proprio... Eh... Simon e Garfunke da Central Park... Quello che gli ha fatti esplodere... Certo... 500.000 persone da Central Park... Il pubblico è finto... Veramente? Un pubblico fintissimo... Ma perché non erano riusciti a catturare... Probabile... Perché secondo me quello che facevano i Kiss... Registravano tanti dei boati... Ma poi era... Sì sì... Cioè una roba... Perché cazzo... Quelli è live... Lo fai che metti i microfoni... Poi se non basta... Aggiungi... Certo... Il volume... Li tiri su e lo senti perché... Aumenta l'ambiente... No certo... Certo... Però... Metterli finti... Tutti finti... No... Certo... Certo... No la roba lì del ritocco... Posso anche capire... Perché veramente... Venti che c'hai quella take... Che dici... Michi abbiamo spaccato... Figa però a un certo punto... Ho fatto proprio quel cappellone... Dai ci può stare... Come il cappellone ogni tanto... Tiene un mutuo fa anche... Sì... Devo dire... Me ne ha fatto sentire uno mio fratello... Di una roba live di Jack White... Che non è proprio un live... Ma una di quelle robe... Sai... B-side... Che ha messo live... Che proprio... Dici... Madonna... Questa è proprio una scelta estrema... Sì perché è proprio lui... Che piglia una stonata... Ma lunga... Lunga e costante... Cioè che dici proprio... Ma... Però ti fa capire l'onestà... Sai la sua cosa... Che è tutto... Certo... Lui ha fatto anche il disco... Quello live direttamente su vinile... Sì... Lascia proprio il boot... A Codman Rager... Se tu entri... Registri... E se le porti... Certo... Registri ovviamente stampi... Perché c'è la stampa in live... Lui è stato... Sì... Ma tu non l'hai fatto però... Abbiamo fatto il video... Cioè... La base è live... Volevamo farlo proprio live... Cioè girare il video suonando... Facendo tre o quattro takes... Certo... E poi puoi montare... Sì puoi fare anche un Frankenstein... Di una roba che comunque è vera... No... In realtà non siamo riusciti... Abbiamo ottenuto tutta la versione live... Che però è una versione... Certo... Cacchio... Ebbè la cosa più bella ragazzi... Che ti sembra di essere lì... Non vanno mai tagliate le versioni... Le versioni live... Mare di miele... Sei d'accordo... Un amico mi ha detto... Secondo me... È la Smells Like Teen Spirit italiana... Ti ci rivedi un po' in questa cosa... No... Mi mancano una ventina di milioni di euro... Ma vabbè... No... Però diciamo è stato... Come dire... Un momento... Un momento in cui sono cambiate... Sì... Era un periodo pazzesco... In cui sono cambiate le cose molto velocemente... Te lo ricordi benissimo anche tu... Anche in radio... No... Ho cominciato ad andare delle cose... Che prima non potevano passare... La stessa Smells Like Teen Spirit... Che non ha proprio i canoni della canzone radiofonica... Ma una volta esplosa poi... Esatto... E quindi anche per noi... Che eravamo tutti nel giro qua a Milano... Il Jungle Sound eccetera... Suonavamo tutti appunto chitarristici... Certo... Alla fine... Sembrava aprirsi un mondo... Che un po' si è aperto... Diciamo la verità... Perché comunque per l'Italia... È cambiato tanto il gusto musicale da allora... No... Però erano anni in cui... Sembrava una rivoluzione... No... Certo... Certo... Sì... Adesso forse c'è in atto un'altra rivoluzione... Ma con meno chitarre... Non ci sono... Se parli della trap... Non ce ne erano proprio... No... No... Però... Sto notando per esempio che... Alcune canzoni trap... La cifra stilistica secondo me è anche interessante... Poi magari non tutti i pezzi sono... Sono strafighi... Almeno per il mio gusto... Però ci sento un po' di grunge che entra... No... Per esempio... La nuova di Lil Nas... Riprende l'Itium dei Nirvana... Sì... La riadatta... Ce n'è una che prende... Sai una di quelle tristi dei Blink... Che sembrano un po' un grunge... Anche quella là là là... Ci ritrovo qualcosa di anni 90... In alcune menodie... Ho una figlia di 14 anni... Tutti i suoi amici hanno le magliette dei Nirvana... Eh... Tutti i ragazzini vanno in giro... No... L'immaginario è ancora forte... Bisogna vedere quanti di questi ragazzi... Poi godono a sentirsi Nevermind... In un tiro in cuffia... Se lo sentono... Poi bisogna vedere se suonano... Perché imparare a suonare... È uno sforzo che non so se adesso vogliono fare... Sì... O magari sentono band attuali... Che riprendono tanto quel suono... O suoni precedenti... Anche molto chitarristici... Non sapendo da chi provengano... Ed è fisiologico che accada... Quando ci sono i cambi generazionali... Che ne so... Questi Fontains DC... Che sono una delle band del momento... Sono dei ragazzini irlandesi... Bravissimi... Ok... Che io ho visto st'estate in un festival... Che qua devono ancora arrivare... Ma in Inghilterra e in Irlanda sono esplosi... Anche negli Stati Uniti adesso... Magari... Anzi... Probabilmente tutti i loro fan giovanissimi... Pensano che il loro suono sia fresco... Sia nuovo... Abbiamo inventato qualcosa... Sono i Joy Division... Ah sì... Poi Great of Conflict... Che sono... Le Zeppelin... Suonano benissimo... Però... Allora... Se posso dire una cosa... Che suonerà come un po' da Matusa... No... Se ci sono... Insomma... Dei sedicenni... Ascoltate bene... Perché non voglio fare il Matusa... Cioè... Rispetto ad altre generazioni... Ci si ha... Meno voglia di capire le radici... No... Per esempio... In chi ascolta il rap del momento... È poco viva... Sia la memoria... Ma anche la conoscenza... Anche del rap di 15 anni fa... No... Mentre invece... Io ricordo che... Innamora... Che ne so... Mi innamoro dei Motley Crew... Diciamo di un gruppo anni 80... Un po' pacchiano... Quando nelle loro interviste... Loro dicono... Ah però... Insomma... I Beatles... Noi facciamo... Io vado a sentirmi i Beatles... Ok... Può risultare un po' brutto scoprire i Beatles attraverso i Motley Crew... Però c'era una voglia di andare a capire quali erano le radici di quello che ti piaceva... E poi da lì esplorare un po'... Si è un po' persa secondo me quella voglia di storia proprio... Ogni tanto succede... Ci sono queste gap generazionali... Questi baratri che si creano fra generazioni... Il punk lo è stato... Perché se pensi... Quando è arrivato il punk era un po' come... Cioè era un po' la trap è un po' come il punk... Cioè arrivi... Non vuoi essere capito... Non te ne frega niente di spiegarti... Non vuoi neanche... Azzeramento totale... Azzeri totalmente tu... Sei lì... Sei Attila... Puoi spazzare via tutto... È vero... È vero... È vero... Beh l'ultimissima è... Povera Billie Eilish che ha detto... Boh io Ivan Allen non li ho mai neanche sentiti nominare... Che insomma ci può stare... Però insomma magari... Dai Billy... Prima di dirlo... Adesso nei tempi di Google... Magari che ne sai... Cioè puoi fare anche delle... Sì... Adesso è grave... Eh... Eh... Insomma dai... Poi da una concittadina... Proprio da... Neanche di Los Angeles... Proprio di Pasadina... Che proprio... Ivan Allen hanno fatto le scuole superiori... Dove probabilmente le sta facendo... O le faceva fino a qualche tempo... Fabi Eilish... Senti... Hai deciso di fare anche... Diverse cover... Adesso ne sentiamo una di Lana Del Rey... Che è uno dei personaggi più... Discussi diciamo... Della scena musicale... Perché c'è qualcuno che la ritiene... Un genio assoluto... E altri che dicono... Oh no... Ma lei secondo me... Non è stato perché c'ha i ganci... Perché ha... Ha una bella... Ma cosa... Che dici tu? Ma io avevo dei preconcetti... Forti... Nei suoi confronti... Fino a che non l'ho ascoltata... Semplicemente... L'ho ascoltata per caso... Sono entrato in camera di mia figlia... Perché lei stava sentendo un pezzo... Ho detto... Ma cos'è sta roba? Grande... E lei mi ha detto... Eh Lana Del Rey... Quella che non ti piace... E che non ascolti... Ah... Stilettata proprio... In realtà mi sono ascoltato il disco... Ed è un disco... Il disco è il primo... È un disco meraviglioso... Molto interessante... E secondo me... Cioè lei ci ha messo nel suo... Ha una voce pazzesca... Poi con tutto quello che puoi fare in studio... La base ci deve essere... Comunque... Certo... Certo... Video Games... Nella versione di... Manuel Agnelli... E Rodrigo D'Erasmo... Oggi con noi... Tropical Pizza... Radio DJ... Ma qui sei tu piano quindi... Eh sì... Tu piano... Piano... Violino e voce... Scusa... E male di miele... Comunque sei in distortion... In piedi... Abbiamo trovato... Sì sì... Sì sì... Comunque alcune cose... Ah... E voi il monitor no... No... Io ho il monitor... Tu sì... Perché per la voce... Ma sai cos'è... Io li ho sempre schifati... Eh per la voce canti bene... Adesso io parlo... Sì... Non c'è paragone... Eh perché ti senti qua dentro... Cioè per quanto puoi sentir bene su una roba... Non è mai come proprio... Poi con gli after... Cioè i sei centrali nucleari che suonano un volume muscoloso... Madonna... Io dovevo cantare proprio sempre così... No... Per cui in medio... Ma tu lì come facevi... Con un muro di spie... Di quelle che reggono... Sì ma tanto... E che appena ti sposti... Poi si sente... Anche le armoniche che girano... Con sei persone che fanno casino... Vero... Vero... Non c'è mai che riferimento pigliare... Con gli ear monitor... No ci sai... No è vero... Non mi piacciono quelli chiusi... Perché quelli ti tolgono il power... E quindi cosa usi? Li appoggio... Me li metto con lo scotch qua... E li lasci un po' che è dentro fuori... Sì è vero... Sì ho precisione... Cioè nel senso alla fine... Questa roba la senti... Sì sì sì... Mi entra tutto... Sì sì... E senti un pochino anche magari di palco... Senti una bomba di palco... Però hai un sacco di precisione qui... Quando sento troppo fastidio... Perché stanno facendo troppo casino... Me li caccio dentro... Ah giusto... Sai che faccio 20 concerti in un mese... Non ho problemi... No ma anche perché non ti sforzi... Non ti sforzi... Vabbè è chiaro che questo tour qua... Non potreste avvocare dire molto più rilassante... Però... Sì però sei anche... Due ore e cinquanta a sera... Veramente? Yes Cacchio... Ho fatto 21 dati in un mese all'aprile... Non ho avuto una sera con un abbassamento di volo... Cacchio e poi ce n'hai tante anche belle sparate... Le fai tutte in tonalità originale... Tranne strategia che la faccio a mezzo tono sotto... Ah vabbè però... Ma per non avere il patema... Certo certo... No poi va detto che nel concerto super rocking... Anche la nota un po'... Cioè si perde un po' via... In due così sei... Cioè c'hai proprio le orecchie e gli occhi... Poi anche il silenzio in sa... Cioè non è quella roba... Beh no certo... Certo... Madonna... Certo... Perché il concerto rock hai ragione... Cioè c'è anche tanta attitudine... E però poi si ha alla fine anche qualche nota... Ma così quasi non si percebe... Infatti è classico... Sia... Ma invece sto attento a... No certo... I timbri... I timbri... Gli amplificatori che abbiamo sono questi americani... Che vanno a 110... Quindi abbiamo i convertitori... Ah avete fatto quella roba lì per il suono più big... Però non è big... Il timbro è fantastico... Però quel volume lì con gli after non lo puoi usare... No certo... È troppo piccola... Certo... Lì invece in teatro è fighissimo... Madonna... Ma poi anche il teatro stesso... Suona meglio dell'arca... Voglio suonarmi di suono... Ma voglio vedere... Madonna... Sì anche di chitarra... C'è una 135... Sembra la macchina... 135 è la Gibson... Che ho preso a Los Angeles... Semi-acustica... A Los Angeles dove vai? Al Guitar Ranch... Guitar Ranch... Sì... Quindi non center... No... Ranch... È vicino e vende... E sono tutti lì no? Semesh... Praticamente vendono roba rotta... Che è un rigattiero... Ti vende la roba rotta... Che tu puoi far aggiustare... Come vuoi tu... Un po' stancazzo... Ma è incredibile... La storia dei microfoni... Magari con la capsula rotta... Che devi un po'... E tu sei capace di aggiustarli o hai i tuoi... Sì sì... Ho i miei... Ho i miei contatti... E si fanno affari? Perché costa abbastanza meno... Non costa niente... Certo... Ma sì ma sta roba qua io ho capito... È come... È come le macchine... Sì... Cioè quando sento... Qui sento spesso questi discori... No ma è uscita la nuova... Sai... Che i pistoni... Io non... Cioè non ci capisco... Ma poi onestamente non mi interessa... Cioè a me la macchina mi basta che va... Se devo fare un viaggio... Invece su ste robe... Capisco quella nerditudine del... Sì... Sì... Nell'angolo nerd che si è creato e che avrete potuto apprezzare se ci state seguendo su YouTube Si parlava anche della differenza tra un concerto rock peso con un volume sul palco al di là di fuori Proprio sul palco stesso dove sta suonando di un concerto degli After Hours E una serata tipo questa sicuramente più intima più delicata Dove anche ogni errore può essere fatale rispetto a un... Cioè c'è una concentrazione diversa nel teatro Sì però è anche più difficile sbagliare proprio perché hai un sacco di spazio Hai un sacco di precisione anche negli ascolti Con sei persone sul palco che fanno un gran casino Soprattutto per chi canta è difficile È bravo... Esattamente Mentre io qua te lo stavo dicendo Abbiamo fatto 21 dati in un mese all'aprile Non ho avuto un calo di voce Perché comunque non ti sforzi È facile, è più facile Certo Allora tu suoni... Canti sempre ovviamente Suoni varie chitarre Tra cui una... No, il discorso assomigliava un po' a quei discorsi di appassionati di macchine Io ne incrocio tanto perché evidentemente è una grande passione in Italia I pistoni, l'accelerazione da 0 a 100 Cose che sono arabo per me E che probabilmente sembrano arabo Le nostre chiacchiere agli stessi che parlo A volte insomma è una passione comune, no? Macchine e chitarre Però noi qui parlavamo di microfoni, valvolari, rotti Di rigattieri di Los Angeles È stato molto interessante Cambiate molti strumenti, no? Tu suoni chitarra, suoni il piano? Sì, suono il pianoforte che ho studiato appunto Anche per un bel po' di anni Mentre la chitarra no E si sente E lì è con la attitude Esatto Ci scambiamo strumenti perché Rodrigo suona violino, tastiere, percussione E lui è il jolly Lui è il jolly vero Io più che altro suono ogni tanto delle percussioni Ma suono chitarra acustica e elettrica e pianoforte E poi come Rodrigo canta anche Perché ragazzi quelle controvicine lì dietro Senti E si acquisisce anche più Cioè suonando tanto insieme Con una band Si crea appunto con lo spirito di gruppo In due Si diventa Un po' come i calciatori Cioè io Non ti guardo neanche Ma ti faccio il lancio in quella zona del campo Perché so che tu sarai lì a raccogliere il mio passaggio Diventa un po' così Cioè migliora tutto Sì sì è assolutamente così Ti dicevo prima infatti fuori onda diciamo Anche se poi non lo è Che più vai avanti Poi da metà tour in avanti Suoni a memoria Suoni veramente a memoria Ed è bello perché ogni sera ti lasci andare anche a quel margine Di fuori programma Sì di libertà anche proprio all'interno dei brani Che magari sono piccole sfumature Ma che rendono anche per noi le versioni ogni sera Certo fresche no? Io son bastando gli do dei segnali sbagliati Ma lui si riadatta No no io non li guardo proprio Va bene allora siete più o meno a metà di questo altro giro di date No cosa manca? Venezia? La prossima è Venezia domani? Sì Giusto Li conoscete già tutti questi? Firenze, Tuscany Hall, il 6 Poi il 7 ad Asti A Parma, al Teatro Reggio No in realtà Venezia mi sa di no Tu dicevi che non ci hai mai suonato Venezia-Venezia Giusto? No Venezia-Venezia in centro Non l'abbiamo mai suonato Mamma mia Perché non è tradizionalmente un posto di concerti Non c'è mai stato un locale rock Dove fare È difficile Dove portare la roba sui barbacoli Anche portare gli strumenti Certo Tra l'altro fino a qualche giorno fa Era a forte rischio il concerto Proprio per il discorso dei trasporti e della Maria Alta E abbiamo lottato in qualche maniera Perché la data si facesse E si facesse proprio a Venezia E siamo felici che le cose stiano rientrando Quindi domani siamo al Goldone Noi siamo abbastanza eccitati Dopo il teatro Reggio si chiude ovviamente con Milano Homecoming gig al teatro degli Arcimboldi Il 10 di dicembre Con ogni probabilità vi verrò a molestare backstage A dare un'occhiata un po' in giro Grazie mille ragazzi In bocca al lupo allora Grazie Manuel e Rodrigo Radio DJ Ci sentiamo tra poco Ciao